Grazie al Signore 2014, processo verale per la nomina della PAP. Oggi, domenica 16 febbraio, ormai adempiute le istituzioni delle cerimonie mattine, il cittadino generale, Maurice Raguzzi! All'attesa, il cessione di arte è stato maggiore, presenuto dalle svegolanti bambieri regionali e dal suono delle marce musicale dei biffi e dei cammuri, si è recato nelle abitazioni dei cittadini sottolominati. Ognuno di essi, il generale, ha partecipato ufficialmente la disilazione degli spessivi bambini al prestigioso incarico di Abba delle parnocchie cittadine. I genitori, accogliendo con orgoglio tale nomina, hanno accettato il buon grado sottoscrivendo con noi e con gli Abba il presente verbale. In generale, affettuosamente, congratulandosi con i facciugni, ha ralmentato i genitori come tale nomina sia di grande augurio per i loro figli, perché ad essi è concesso l'ambito e l'onore di rappresentare il proprio territorio regionale durante il tempo canascelesco, ciò sin dai tempi delle madie dell'articolo gine, dove tutto ebbe inizio. E noi continuiamo fedelmente queste tradizioni cennone in ricordo dei nostri anni e per volontà del popolo portese! A questi giovani testimoni auguriamo di dimostrare il proprio diritto nella scena canascelesco. Ed ora, formulando il più sentito augurio del buon carnellale, noi, Massimo Artis Perlino, sostituto dal Gran Cancelliere, così designato anche quest'anno e per la terza volta dal Decano dei Notari del Pometiesi, dottor Pia Luigi Cignetti, diamo atto che il cittadino generale, fronte al pubblico festante, lo sventolino dei bandieri, al suono dei pizzi di Tampuri, promuoviamo qua, per la parrocchia di Sagrado, Marzia di Torelli! Marzia di Torelli! Marzia di Torelli! Per la parrocchia di San Maurizio Cecilia Ferra! 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 Grazie! Grazie! La parrocchia di San Lorenzo, Chiara Aves! La parrocchia di San Lorenzo, Chiara Aves! La parrocchia di San Lorenzo è possibile creare la vostra pantalla, Il mondo ha nuove spaziali amiche. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.